Sono riuscito a fare non soltanto le cime più alte del mondo, ma anche le cime più alte di tutti i continenti. Non era una gara, non ero in competizione con nessuno, era una possibilità. La performance per me era lo stile che sono riuscito a cambiare. Noi tentiamo di realizzare quello che all'inizio è un sogno. Il sogno diventa un progetto e poi si tenta di realizzarlo. Nel realizzarne siamo artisti, più artisti che sportivi. Fare quello che si ama significa dare senso a quello che facciamo. E' la magic line che volevo scalare sulle tappadue. Era la linea all'inizio che stava nella mia testa che volevo salire. E così anche per una ditta come la fila è importante inventare la magia. di Klein, la linea ideale su una montagna, la linea ideale per un grande pubblico.